In questo momento noi stiamo facendo la cucinazione di una cosa semplice, semplicissima, cioè un arrosto che chiunque può farsi in casa, anche i singoli possono farsi, non ho bisogno della moglie, è un alimento molto d'utile nella cucinazione, si cucina esattamente come la carne, lo prepariamo a mo' di arrosticino, nel frattempo poi che si arrosola io preparo l'insalatina e così ho un secondo, quindi pomodoro, col verde, insomma un po' di iceberg e preparo una bella insalatina, io ho un buon secondo, nel frattempo che preparo queste cose che so io preparerei anche due spaghetti, oppure due tagliatelle alla bolognese e così ho un mio pasto completo, ma questa è la normalità della cucinazione, per cui la facilità di cucinazione appunto è importante, ma nel frattempo c'è una cosa importante, che questi alimenti che non sono di carne, sono realizzati con il frumento e i legumi, che poi richiama la carnina dei nonni, e la caratteristica quindi di questo secondo è che è squisito, ma nel frattempo abbiamo preso tutte le proteine nobili e complete, perché si tratta di frumento e legumi, ma con pochissime calorie, senza colesterolo, tutto un insieme di cose che richiamano un po' il benessere e possono essere utilizzati e abbinati al benessere e alla piacevolezza della tavola. Quindi si comporta tutto e per tutto come se fosse carne, però dentro non ci sono proteine animali. Ecco, dentro non ci sono proteine animali appunto perché si tratta di un vegetale. cosa sono i vegetali? I vegetali non sono mica l'erba, non sono mica i pomodori solamente o la lattuga, anche la pasta, anche il pane è un vegetale, no? E questo appunto partendo dal grano, dal frumento e dai legumi, noi vediamo che i vegetali si comportano o si comporterebbero esattamente come, ecco, io intanto preparo. Quindi per fare questo piatto si è partiti da che cosa? Per fare questo piatto, appunto, che state adesso vedendo, ecco, un filino d'olio extravergine, ecco il pasto, il secondo, è bello che è combinato. Ecco, questo è un piatto, è un secondo, semplice, con poche calorie, senza colosterolo ed è un piatto totalmente vegetale, quindi a base muscolo di grano. Cos'è il muscolo di grano? Il muscolo di grano appunto è una combinazione di frumento e legume che nel suo insieme, il frumento e il legume appunto danno tutta la nutrizione alla stessa maniera di come la darebbe la carne, infatti io faccio ricordare e comunque ricordo sempre la carne dei poveri qual era. La carne dei poveri era appunto fatta da pasta e fagioli e questo è il principio da cui noi partiamo. Noi partiamo dal principio dei nonni, pasta e fagiola mangiava lui, pasta e fagiola prepariamo noi, ma con una tecnica diversa. Noi sappiamo che il grano è duttile, è maneggevole, si fa e si fanno tante cose, si fa il pane, si fa la pasta, si fanno i biscotti, ma cos'è che non si fa più col grano? Col grano si fanno i biscotti, che ne so, i dolci, ma anche la benzina, ma il grano è una cosa meravigliosa. E appunto è una tecnica per fare la pizza, ecco sono delle tecniche e questa non è magia, questa è una tecnica, è una tecnica come fare la sfogliatella, come fare, che ne so io, appunto le tagliatelle. Questa è una tecnica che chi la conosce può farlo anche in casa, quindi la carnina si può fare in casa utilizzando il grano e una parte di legumi, le lenticchie. Come si fa? Si lavora con due parti di grano e una parte di legume e si fa un impasto esattamente come si fa la pizza. Questo impasto si lascia riposare per un po' e poi viene lavorato un po' come il parmigiano. Il parmigiano come si lavora? Questa palla, questa massa, un impasto tipo un impasto di pane, no? Ecco, vengono immerse nell'acqua, questo è questo composto, io sto spiegando la tecnica adesso, e a contatto con l'acqua nello sciacquio vanno via gli amidi. Tutti sanno che l'acqua diventa biancastra, no? Quando cali la pasta, cos'è? E' che a contatto con l'acqua si perdono gli amidi, ecco perché poche calorie. E così questa palla che viene maneggiata, lavorata, insomma in maniera meccanica proprio, viene poi alla fine tirata via da questa vasca d'acqua e la palla che prima poteva essere 4-5 chili, vediamo che si è ridotta a un paio di chili. Bene, quella è la parte muscolosa, proteica del grano e dei legumi. Così poi, da lì in poi, si dà la forma che si vuole dare facendo dei tagli di bistecco o facendo degli arrosti o facendo delle cose. A questo punto la signora Maria dice, sì ma se devo fare tutto questo lavoro, mamma mia! E invece no, noi gli diamo tutti questi valutti pronti. Noi glieli diamo anche pronti. Vogliamo dire bene che cos'è il muscolo di grano? Allora, il muscolo di grano è un alimento che sostituisce la carne e si fa con il frumento e i legumi. Questo è un composto che appunto viene realizzato e può essere realizzato anche dalle mamme in casa, la famiglia può farlo e loro possono appunto utilizzarlo per sostituire di tanto in tanto la carne. Non perde nulla in proteine le persone che lo utilizzano proprio perché si tratta di un alimento molto proteico, cioè le proteine nobele complete come la carne appunto, perché si tratta di frumento e legume. Quindi la carne dei nonni era appunto pasta e fagiola, pasta e lenticchie, il muscolo di grano appunto è la stessa cosa. Cioè partiamo da lì per tirare fuori dal grano quello che è sempre avuto, cioè la cotenna, la pelle e i muscoli. Adesso vediamo questa novità che presentiamo oggi. Questa è la novità che oggi qui in fiera al Cibus di Parma stiamo presentando. è un nuovo prodotto, cioè un nuovo prodotto che va sempre dalla composizione, cioè il vitello è sempre lo stesso, il frumento e il legume è sempre lo stesso. Noi partiamo quindi da questa combinazione e da qui oggi abbiamo voluto presentare ad esempio gli affettati che possono trovare nei supermercati, ma anche sugli autogrill per fare i panini, per fare i toast, per fare gli antipasti. e questo è appunto un alimento che stiamo presentando a noi adesso. Non sapevamo che oltre alla cotenna e ai muscoli il grano ha anche la capacità di ridursi nelle fette che voi vedete, che potete comprare con le come le confessioni negli scaffali del supermercato. Ecco voi li vedete. Questi sono fatti da frumento e legume, quindi molto proteiche, proteiche esattamente come sono proteiche gli affettati delle altre marche. Noi non partiamo dagli animali, lasciamo gli animali dove sono, quindi la gallina la lasciamo dov'è. Quindi si presenta come un salume tutti gli effetti e saranno immagino diversi tipi di salume. Sì, sono diversi tipi. Ed invece è vegetale. Sì, sono diversi tipi, quindi appunto questi alimenti che partono dai legumi effettivamente sono utili e possono essere lavorati in diversi modi. Quindi noi lo vediamo in una vaschetta, quindi si comporta anche esattamente come un qualunque una fetta di prosciutto, come una fetta di mortadella? Beh, è certo che sì, non lo vede. Cioè adesso io gli sto facendo vedere come la fettina di prosciutto vegetale, fatto col muscolo di grano, è appunto un prosciutto che ha le stesse sembianze, la stessa duttilità, la stessa sottilezza degli altri prosciutti che sono in circolazione, che sono in vendita, ottime e buoni. Questo rappresenta la parte mancante. Quindi quando uno vuole riposarsi il fegato, vorrebbe riposarsi il fegato perché ha dei problemi, che ne so, e vuole riposarsi qualche giorno, non deve pure non mangiare. Ma questi alimenti appunto aiutano, sia il dietista, sia i medici, e tutti quanti, a sostenerli nell'alimentazione con l'apporto sì delle proteine, ma senza quei carichi di grassi e di colesterolo che in genere si ritrovano invece quasi in tutte. Quindi è un aiuto proprio anche per una dieta sana, ma anche per dimagrante. Per la dieta dimagrante questo è il being over the top, nel senso che essendo queste a basso contenuto calorico e completamente assenti in carboidrati, attenzione, questa è una cosa importante. È vero che ci sono, è fatto col frumento i legumi e ha le proteine nobile complete, però in questa tecnica che dicevo prima, non ha più carboidrati, eh? E quindi sia per un diabetico, sia per uno che ha problemi di obesità o qualche chilo di troppo, ma è naturale che questi diventino per loro quasi forse una medicina. Proviamo a fare un esempio pratico. Una bella rosetta con la mortadella di Bologna, quante calorie ha? E la stessa rosetta con questo salume, quante calorie ha? Allora, io non sono un medico, quindi non è che devo dichiarare da medico, ma dichiaro da cosa dicono gli analisi che i medici stessi hanno fatto. Una fetta di mortadella comporta all'incirca 500 calorie per 100 grammi. Un nostro prodotto per 100 grammi solo 150. Quindi faccia un po' i conti lei. Yeah, 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 yeah. Grazie a tutti!